Carmine Sant'Angelo, presidente dell'OD-Check di Vallo della Lucagna, nella sua analisi del nuovo DL rilancio su Cilento Channel, ha espresso un suo pensiero generale sul decreto legge appena nato e sugli altri precedenti e il dissenso per questo modo di operare del governo, soprattutto per la categoria nella quale opera. Ci hanno abituati a prendere tempo pensando che i problemi si risolvano da soli, ma questa volta non è così e il lavoro ricade sulla nostra categoria che da mesi è impegnata su queste manovre finanziarie, dichiara Sant'Angelo. Prima era una all'anno, adesso a raffica. Si sta facendo tutto quello che non è stato possibile fare negli ultimi dieci anni per la mancanza di soldi. Adesso debiti a volontà e tanti interventi per tutti, ma molti di questi annunci rimarranno solo tali. E poi continua. Si spera nel ritorno alla normalità e al lavoro, perché questi microaiuti non risolvono i problemi. Le risorse sono limitate. Non si è riusciti a far sì che tutti quelli che ne hanno bisogno ricevessero questi fondi. Un decreto rilancio che nonostante la grandissima mole di provvedimenti sembra non convincere appieno, soprattutto per i tanti che sono stati dimenticati in questi aiuti di ripartenza.